E' stato siglato nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze l'accordo di programma per l'erogazione di 500.000 euro destinati ai comuni che rientrano nell'Unione dei Comuni Amiata-Valdorce e nell'Unione Comuni Montani-Amiata-Grossetana per aumentare l'attrattività turistica dell'area e in particolare potenziando il sistema sciistico. Presenti alla firma l'assessore regionale al turismo e attività produttive Stefano Ciuffo e il presidente dell'Unione dei Comuni Amiata-Valdorce, Francesco Fabrizi. Amiata ha saputo promuovere la propria ospitalità, lo stimolo, la sollecitazione per tutto l'anno ed è forse il primo esempio virtuoso in questo senso da parte degli operatori del settore e degli enti locali nella Toscana. Nello specifico gli interventi finanziati con l'accordo di programma siglato a Firenze riguardano i comuni di Castel del Piano, Abbadia San Salvatore e Seggiano. Tra le opere previste ci sono il completamento del prelievo dell'acqua in quota e la sua distribuzione con il potenziamento dell'impianto di produzione della neve, delle piste Crocicchio e Asso di Fiori e l'ammodernamento di quelli delle piste di Pianello e Giolli. Questo è un progetto che riguarda sì l'Amiata ma tutta l'area dell'Amiata Val d'Orcia perché il turismo sull'Amiata ricade anche sulla Val d'Orcia e quindi più è strutturata la montagna e più tutta la zona ne trae vantaggio. Reddito di cittadinanza meno navigator, maggiore coordinamento alle regioni. Dopo un confronto serratissimo durato molte settimane è stata siglata una prima intesa fra il governo e le regioni sul potenziamento degli organici dei centri per l'impiego e le funzioni dei nuovi navigator. A darne notizie è stata l'assessore regionale alla formazione della toscana Cristina Grieco, coordinatrice della Commissione della Conferenza Unificata delle Regioni. L'accordo prevede che le regioni possano bandire immediatamente concorsi per l'assunzione di 4.000 persone nei centri per l'impiego, utilizzando gli stanziamenti già inseriti nella legge di stabilità. Altre 6.000 assunzioni sono in programma a partire dal 2021, sempre tramite concorso, e andranno ad aggiungersi a 1.600 stabilizzazioni. Per quanto riguarda i navigator, in questa fase l'agenzia Ampal ne selezionerà 3.000 applicando contratti co-co-co. Le regioni potranno utilizzarli in una fase transitoria per supportare il personale dei centri per l'impiego in veste di assistenti tecnici a diretto contatto con il pubblico oppure per i servizi interni. Per i navigator il governo ha stanziato 90 milioni di euro. La regione toscana destinerà 6 milioni di euro al riequilibrio dei fondi destinati ai contratti dei dirigenti medici del servizio sanitario pubblico. La cifra è inserita in un accordo presentato dal presidente Enrico Rosse e dall'assessore alla salute Stefania Saccardi, insieme ai rappresentanti di tutte le sigle sindacali. I fondi serviranno a finanziare prestazioni aggiuntive, comprese quelle per ridurre le liste di attesa e le assunzioni del personale che deve sostituire coloro che sono andati in pensione o ci andranno con quota 100. In assenza di risorse e di accordi a livello nazionale e a livello regionale stiamo cercando di fare una serie di accordi con il personale medico e con il comparto in modo da riconoscere l'attività importante e preziosa che i tanti professionisti svolgono all'interno del nostro sistema e trovare una modalità per rivalutarla, insomma per valutarla al meglio. Il mio ringraziamento va alla dirigenza, ovviamente all'assessore e poi agli operatori sanitari senza i quali non si farebbe nulla ma diciamo questo rapporto secondo me che oggi stabiliamo sarà foriero di tante altre cose positive e soddisfazioni. Presentando l'accordo il presidente Rossi ha annunciato che nel 2018 la Toscana è riuscita a risparmiare 80 milioni di euro sulla spesa farmaceutica attraverso prescrizioni più appropriate e l'uso dei farmaci generici diventando anche su questo fronte una delle regioni maggiormente virtuose d'Italia. In Toscana saranno circa 300 e nuovi operatori assunti a tempo indeterminato tramite concorso pubblico nei centri per l'impiego a fronte dei 4.000 previsti dall'accordo tra regioni e governo sul personale dei centri per l'impiego e sui navigator previsti dal reddito di cittadinanza. Punto forte dell'intesa raggiunta dopo settimane di trattative il via libera ai concorsi e la velocizzazione delle procedure per l'immissione dei nuovi operatori già entro il 2019. Noi faremo il bando di concorso intanto per 60 unità ma poi probabilmente già nelle more dell'uscita del bando arriveremo a oltre 300 perché ci sarà la nostra quota dei 4.000 quindi intanto i primi 300 ma un'altra cosa che abbiamo ottenuto nell'accordo e nell'intesa di ieri è che faremo un piano di rafforzamento e dal 2021 avremo la nostra quota parte di altre 7.600 unità quindi ecco perché dicevo che in due anni entreranno almeno come stima 700 operatori professionalizzati nei nostri centri per l'impiego quindi veramente un salto di qualità che ci permetterà di essere quantomeno un minimo competitivi con gli altri paesi europei. Sulla base delle necessità dei territori poi sarà la regione a decidere se quanti dei 3.000 navigator selezionati dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro ANPAL richiedere per fare assistenza a chi avrà fatto domanda del reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda i 3.000 navigator saranno contrattualizzati con contratti precari con contratti di collaborazione d'AMPAL servizi e andranno ad aiutare a fare assistenza tecnica a quelle regioni che lo richiederanno però opereranno sotto le direttive delle regioni quindi è un'impostazione completamente diversa da quella che si poteva leggere nella prima stesura del provvedimento e è un risultato che ci vede pienamente soddisfatti. Appalti pubblici e urbanistica al centro dei provvedimenti adottati dalla Giunta della Regione Toscana nel corso della sua ultima seduta. Per quanto riguarda gli appalti pubblici è stata presentata la nuova legge regionale che ha come obiettivo quello di valorizzare lavoro e aziende. Un provvedimento che riporta al centro il tema del lavoro e che introduce tra le altre cose una verifica di congruità fra il numero dei lavoratori dichiarati, importo dell'opera e versamenti contributivi per le aziende che partecipano a legare nella pubblica amministrazione per evitare il lavoro nero. Introduciamo e rafforziamo la clausola sociale nel passaggio dell'assegnazione dei servizi in caso di gara per la tutela dei lavoratori, passaggio da un'impresa a un'altra quando a vincere fosse un'altra impresa. Cerchiamo di rendere tutta quanta la legislazione degli appalti regionali e dei servizi più trasparente e allo stesso tempo più rigorosa nella tutela del lavoro per quelle che sono le competenze che possiamo esercitare in questo settore. Sul fronte dell'urbanistica la regione toscana con oltre un milione di euro sosterrà anche nel 2019 la pianificazione strutturale intercomunale, ovvero la stusura di un unico piano strutturale da parte di più comuni della stessa area alla base della legge regionale 65 del 2014. Noi abbiamo approvato una delibera attraverso la quale mettiamo a disposizione anche nel 2019 altre risorse per poter finanziare i piani strutturali intercomunali. 316.000 euro saranno destinati a finanziare i comuni che erano rimasti in gradatoria del bando del 2018, gli altri 800 e rotti 1.000 euro invece saranno messi a bando per poter dare l'opportunità anche nel 2019 di poter accedere a questi finanziamenti. A poco più di quattro anni dall'entrata in vigore della legge sono 199 i comuni interessati dai nuovi piani strutturali comunali e intercomunali. Il futuro del turismo online sbarca all'undicesima edizione di Buy Tourism Online, la borsa del turismo online in programma dal 20 al 21 marzo alla stazione Leopolda di Firenze. Un appuntamento irrinunciabile per gli addetti del settore che potranno conoscere tutte le novità del turismo, quello smart, digitale e proiettato verso l'innovazione. Ci sono due modi per stare nel mondo delle imprese e nel mondo del turismo. Attendere e cogliere i frutti di ciò che la natura può naturalmente destinarci oppure essere protagonisti e anticipare e cercare di comprendere quali sono le desiderate, quali sono gli spazi, quali sono gli strumenti possibili. La Toscana sta facendo questo, sta facendo bene da tempo. Stiamo cercando di comprendere in anticipo quali sono le evoluzioni di questo mondo e per mettere a disposizione degli operatori tutti gli strumenti più avanzati per essere protagonisti in questo mercato. E le due giornate della BTO si inseriscono proprio in questo percorso per cercare di intercettare le novità del turismo a livello mondiale, con workshop incentrati quindi sull'innovazione digitale del mondo dei viaggi. L'innovazione digitale del turismo non la fa la singola impresa, il singolo albergo, struttura ricettiva o ristoratore che sia, perché lì insomma dopo che ha messo il wifi ha fatto un po' di cambiamenti gestionali, poco è innovazione, ma l'innovazione è della destinazione ed è dei prodotti turistici. Quei prodotti turistici e le destinazioni nel loro complesso devono essere integrate e digitali. Su questo ragionamento inizieremo a lavorare sia con gli ambiti territoriali turistici, che sapete 28 ambiti della regione, sia con i prodotti turistici omogenei, che sono i due strumenti che la regione ha messo in campo per il turismo. Tra gli appuntamenti da non perdere, quello dove parteciperanno i rappresentanti delle due città decretate le capitali europee del turismo smart, l'Inz e l'Ubiana. Ma si esplorerà anche in quale modo sta cambiando la domanda cinese e si parlerà anche di turismo nello spazio. Garantire al consumatore finale la tracciabilità delle produzioni agricole e la qualità delle materie prime è l'obiettivo della Toscana, che fa la parte del Leone a Firenze Bio, la manifestazione dedicata ai prodotti biologici e biodinamici alla fortezza da basso di Firenze. L'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi ha ricordato che le aziende bio in Toscana sono 5.000, sul 25% della superficie agricola, un comparto addetto che segue la strada delle migliaia di giovani che hanno preso parte anche in Toscana allo sciopero globale per il clima. L'agricoltura può fare molto in questo, un'agricoltura che sia più rispettosa dei suoli, delle acque, che utilizzi minori input chimici e che quindi prevalgano le produzioni di qualità salutistiche e sicuramente noi su questa partita come Toscana possiamo dare molto. Ai produttori agricoli la Toscana ha destinato gran parte del piano di sviluppo rurale con 2.066 aziende che hanno usufruito di 115 milioni di finanziamenti disponibili e ora è allo studio della Giunta regionale anche una legge sui distretti bio. Grazie a tutti.